Buongiorno a tutti, qui è TheStraker46 ed oggi è come qui per un video speciale! Oggi siamo sul famosissimo ed insanissimo Cat Mario! E in cosa consiste questo fucking game? Beh, semplicemente è questo gatto che cerca di imitare Super Mario. La particolarità però che lo contraddistingue da un normalissimo Super Mario è che è altamente sadico. Prima di niente farà di tutto per farvi sbagliare e cazzate del genere. Quindi preparatevi a sclerate continue e incazzature che come non le avete mai sentite prima d'ora. Quindi iniziamo questo fucking game! Per tre video... Così che sono i gomba... Eh? No dai! Ho appena iniziato! What? Ma quel cubo si è alzato, sbaglio! Si può fare l'attacco schia... Vaffanculo! Un po' di merda! Un altro tipo di... Ma vaffanculo, va! Cazzo, già ho la vita! Ultima vita, quindi ho... Penso che questo game play sarà... Oh! No! Zero... Sarà l'ultima vita, penso... Hop, hop, hop... Hop, hop... Hop, hop... Porca, vaffanculo, va! Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Mamma mia, ragazzi... Non potete capire che gioco di merda che è... Naturalmente, ragazzi, il link è in descrizione, dovete sclerare anche voi! Ma... Ma so, figli putt... Figli puttano, mamma mia... Ti dovrebbe... Ti dovesse venire un cancro, vaffanculo! Hai coglione! Non si può entrare... Ottimo! Che cat! What? Ma... No, vaffanculo, è gioco di merda! Sei un... Gioco di merda, cazzo! Hop! 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 Ma vanna... No, 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 ragazzi, è un gioco di merda, proprio, cazzo! Giocateci voi, porca! Oh, fregata! Oh, fai! Dove sei? Cubo di merda! Salta! No! Affanculo! Hop! 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 Ma non muore quel cancro! No, mi sono scordato! Non è possibile! Oh, meno 7, ragazzi, sono già morto 10 volte per l'all'incirca 11. Sì, se accostiamo lo 0, anche 11. No, mi scordo, mannaggia! Vaffanculo! Dove sti biancancaro! Hop! Un cancro! No, no, è possibile! E' possibile! Nivelamente! Cazzo! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. cazzo regent che cazzo ma quella è una stella no vaffanculo è un gioco di merda se dovesse biancancaro ah però almeno uuuh fanculo ma vaffanculo nooo non è possibile almeno riprendiamo da qua abbiamo diciamo vite infinite cazzo ma non appunti sto fucking game quindi che cazzo prendo a fare le monete mamma mia no 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 sei un gioco di merda tu sei un gioco di merda sei un gioco di merda sei un gioco di merda ti dovrebbero prendere e buttare nella pattumiera perchè veramente fai sch... no 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 sei un gioco di merda sei un gioco di merda sei un gioco di merda ti dovesse prendere proprio proprio alle palle proprio ti devono cadere a terra proprio a te creatore di merda sto parlando con te tu sei un figlio di puttana ahhh ahhh no non è possibile no no non è possibile madonna mia basta sto gioco di merda è una merda assoluta oh oh andiamo a prendere qualche oggetto sono curioso però ormai esploriamolo tutto dai tutte le sue malvagie età le sue stronzate ok in questo tubo non è vaffanculo vaffanculo no basta mi ha rotti i coglioni però sto gioco di merda sto registrando a soli sei minuti non avrei mai pensato di dire che un gioco mi avrebbero otto i coglioni entri cinque minuti ma vaffanculo mamma che culo sto giro eh no 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 che cazzo ah sai ragazzi io ci provo un'altra un'ultima volta dopodichè partono le le bestemmie come si fa a dire le bestemmie hop hop allora mamma mia no ragazzi mi sto trattenendo proprio le parolacce no 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 mannaggia ma mia la puttana ragazzi puttana proprio sporca sporca porca sporca oh no 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 cazzo mamma mia ci gioco di merda ma che cazzo me l'ha fatto fare hop 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 no 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 ma vaffanculo mi scordo tess e pianca muori figlio di puttana muori porco dischi hop 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 si vai vai hop 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 non c'è un metodo per non morire che cazzo si deve fare che cazzo che cazzo va bene ragazzi penso che Get Mario sia tutto qui e la puttana proprio gioco lezzo sporco puzzolente proprio i quelli lì come direbbe alla mat va bene ragazzi penso che questo video idiota sia tutto sono morto ben 26 27 volte il che vuol dire che vaffanculo questo è un gioco di merda fa proprio schifo pene e pietà anzi che cioè mi ha divertito che mi ha fatto incazzare nero però alla fin fine ma vaffanculo forse ho capito che cazzo bisogna fare forse però forse potrebbe anche non essere finito aspettate ragazzi due secondi c'è provo ultima volta e poi giuro che la smetto perchè sono bastate solo 10 minuti mi pare brutto per un video di soli 10 minuti ma allora ok mi trattengo dal dire quello che stavo per dire anche se chiunque l'avrebbe detto ma allora il creatore di questo gioco di merda dovrebbe farsi una sciame di coscienza e spararsi nei coglioni una pallottola di piume proprio nei coglioni al posto del testicolo ma vaffanculo va gioco di merda mamma che se scopro chi cazzo è il creatore giuro che gli vado da casa pure che è un giapponese di merda vado là anzi punto ancora meglio che un giapponese di merda lo prendo con il suo sushi gli infilo il sushi nel culo proprio mangia sushi mangia sushi e creatori di giochi di merda ma ma vaffanculo va basta è rotto i coglioni sto gioco di merda a meno che mio fratello mi suggerisce che potrebbe essere un fatto e mi sono dimenticato moriamo un altro pochino mannaggia non siamo morti per niente vaffanculo morti sulle 33 32 33 volte op op pop 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 gadget madonna madonna allora ma non è giusto non è possibile un gioco del genere così merdoso ragazzi voglio dire che non sarà l'unica puntata di un gioco scleroso penso che farò anche qualche puntatina ogni tanto della mi trattengo mi trattengo comunque stavo dicendo farò qualche puntatina su un mitboy se trovo qualche altra versione qualche gioco simile a cat mario flash magari solamente come ho già detto il link in descrizione se volete farvi qualche scleratina e il gioco adatto a voi ok no madonna ho sbagliato fermati fermati mannaggia te mannaggia cioco di merda ma però comunque suggeriva di saltare sul laser stai sedendo con la testa ah saltare sul laser come se fosse un nemico e speriamo sia così perchè faccio l'ultima veramente le ultime prove se non funziona il salto sul laser ma no ma mannaggia vava mamma mia mi sto trattenendo ragazzi non so nemmeno io come cazzo sto facendo proprio è una forza divina no 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 è una forza divina che mi mi impedisce di di blasfemarla per l'appunto oh merda perchè sto per buttare certe blasfemie che nemmeno nemmeno padre pio le ha mai sentite vaffanculo gioco di merda vaffanculo e siamo a quota 37 e 38 morti ragazzi 37 perchè non me la regolo se devo conterre anche lo 0 penso siano 38 in realtà adesso in poi conterò anche lo 0 quindi sono 38 morti no mannaggia mi scordo porco zeus porco mamma mia quel porco di poseidone e se bianca ancora li dovessero sparare dovessero infilare il tridense nel culo e girarlo come se fosse una leva poi via ad allargargli l'ano eh? eh? gioco di merda pure baggato ma va a cagare va gioco di merda mannaggia a te mannaggia è gioco merdoso vedo se posso rifarlo però dai non mi dispiaceva quella cosa dai fanculo no dai volevo provare a fare qualche genialata ma va a cagare va gioco di merda tu mamma e siamo a quota 41 morti e siamo solo a 14 minuti un record di morti e... cioè non ho mai fatto così tante morti in un fottutissimo gioco in una così ristretta quantità di tempo quantità cazzo si quantità? la in un certo in una così bassa diciamo boh l'asso di... non così basso l'asso di tempo chiamiamolo così va diciamo così e vaffanculo miglia ziii che ho combinato stavolta ragazzi spero che non sia tutto questo get mario giuro che... gioco di merda merda proprio schifoso 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 ah no 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 forse ho capito ragazzi allora ce la posso fare ce la posso fare forse ho capito forse 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 potrei aver capito la merda di questo gioco di merda gioco merdoso per andare in corsa vai vai merda ok ci ho fatto ci posso credere che ho combinato è andato in un'altra pagina ok ok oh proviamo ad iniziarlo mmmm si dai siamo solamente a meno 39 ma va a cagare vai dovessi morire ecco magari mi ha pure bloccato la strada perchè da qui non si entri sapevo io lo sapevo e naturalmente non potevo non morire all'inizio del livello ma va a cagare devi crepare devi crepare gioco di merda devi crepare te dovesse piare te dovesse piare piara morte ma vai a cagare gioco merdoso fa schifo ma mai puzza ahahahahah mamma tosca mamma mia adesso il giro non mi freghe fottiti gioco di merda no 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 non è possibile non è possibile ahhh vaffanculo devi crepare gioco di merda fighissimo questa canzone cazzo ohp io pensavo un po' c'è questo effetto c'è è diventato... è stato fighissimo che è diventato tipo un mega macho mega meca ma vaffanculo ho lisciato quello là che non sa nemmeno Dio come ho fatto che pure Dio si è inchinato a me ma vaffanculo persino Dio si è inchinato che ha detto va va a cagare no non è possibile non è possibile ha rotto il cazzo sto gioco anzi penso che no 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 calmati calmati ce la puoi fare potresti anche non bestemmiare ecco mannaggia no gioco schifoso mamma mia è proprio allucinante non mi sono mannaggia quel coglione che non si sa come cazzo vaffanculo va sto per dirne una delle mie fotti di gioco di merda dovresti non dovresti esistere il tuo credore mi sa che è nato una puttana che non ha preso il coso non si è presa la pillola ma vaffanculo un giapponese di merda nel mentre si guardava gli entai è spruzzato fuori è venuto fuori è volato dalla finestra una puttana che non sapeva che cazzo farete la stava buttando al vento se lo è preso mamma mia se uno scherzo è la natura quello che ha creato questo gioco è uno scherzo è la natura dovrebbe cioè dio si vergogna di averlo creato dio si vergogna di amarlo cioè ha fatto secondo me dio fa l'eccezione per quel figlio di puttana dice di amare tutti non va a cagare mi ricordo più che cazzo succedeva qua la madosca no non è giusto non è possibile non mi ricordavo più che cazzo c'era siamo a venti minuti la sclerata non è possibile non è possibile ce la posso fare si vai ma quello è un pedobear non è possibile che si muoia così facendo no ragazzi vaffanculo sei un gioco di merda merda proprio merda la merda che mi esce dal culo in confronto è oro sono pronto a testimoniare che persino la cosa più putrida del mondo pure la merda proprio di vacca proprio schiacciata proprio presa la beer grill se è mangiata farebbe meno fa meno schifo di prendere e giocare a questo gioco perchè questo gioco è stato fatto aprendo un fottutissimo block notes proprio del computer premendo tasti a cazzo col culo col culo proprio proprio a sbattere la faccia a prendere la tastiera a sbatterla a terra e prenderla con un martello fare qualsiasi cosa per programmare sto gioco in linguaggio di programmazione incomprensibile che secondo me proviene tipo un giorno si è svegliato e l'ho inventato sta merda sto giapponese di merda che non ha un cazzo da fare giornate intere e crea sti giochi di merda ma facci una vita sociale mannaggia vita sociale vita sociale hai presente vita sociale socializza un pochino esci il sabato mannaggia che poi ti dicono cos'hai contro i giapponesi nerd ecco cos'ho creano giochi di merda come questo pedobear fottiti ah no 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 devi morire mio fratello che ride pure dì la mamma mia c'è pure loro ridono di me ridono di me no basta non ce la faccio più basta ok ragazzi ultimo tentativo perchè siamo abbiamo già superato i 22 sono quasi 23 minuti dovresti morire dovresti morire no ce l'ho fatta ragazzi nooo brutta merda sei un gioco di merda almeno l'ha salvato adesso so cosa devo fare ahah la stella la stella che cazzo è successo bellissimo l'ha preso un fungo ed è diventato gigantesco no e non ti premo vabbè ti premo perchè oh ancora ancora voglio tante altre palline perchè cazzo l'ho premuto voglio sapere 69 come è la posizia hop a 25 chiudo giuro che chiudo a 25 ha rotto il cazzo sto gioco fa pena pure ai morti mannaggia guardate io me ne sono accorto così per metà non mi sono reso conto di quello che era successo hop no a te non ti premo bottone di merda hop 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 quando me mi uccidono poi sapevo che sarebbe no non è possibile gioco gioco di non lo so come lo posso chiamare un gioco proprio che per buttarlo fuori gli hanno dovuto infilare le dita nel culo allo creatore è quella come un fraggio di merda che godeva pure e nel frattempo scorreggiava e cagava mentre gli mettevano le dita in culo infatti hanno aiutato pure a cagare col ditino in culo madonna madonna proprio schifosissimo ma dovrebbero ucciderli creatori di sti giochi di merda al posto di supportarli vedo gente a cui piaceva get mario che dicevano che era uno dei migliori giochi che avessero mai utilizzato ma perchè non vi suicidate suicidatevi fate più bella figura morti di non conoscete un vero videogioco ma andate a giocare qualche gioco interessante sto gioco fa schifo proprio merda ecco salta merda sei una merda mamma mamma che se muori come ti succederà qualcosa che non mi piace ne sono sicuro vai no ragazzi ho vinto non è possibile non ci credo ragazzi ho vinto ho vinto no ragazzi ragazzi ho vinto mannaggia siiii ho finito due livelli di get mario comunque ragazzi penso che il video possa giungere al termine sono dei bei 26 minuti pieni di sclerie merdate varie perchè proprio c'è sclerie parolacce insulti ragazzi sono stati 26 minuti di merda per me spero che però per voi siano stati 26 minuti 25 minuti 27 come naturalmente mi sto dilungando comunque spero che per voi siano stati dei 27 minuti piacevoli in compagnia del vostro destra che il corrent 6 spero che il video vi sia piaciuto magari fatemi sapere se volete altri video di questo genere sul canale magari anche la domenica anzi ultimamente ho pochi video da caricare quindi potrei farne anche qualcuno in più perchè avendo chiuso il server della shipcraft perchè dobbiamo pagarlo eeeh eeeh dovevo caricare video del genere ho quasi finito i video dato che non posso caricare più la shipcraft per il momento quindi ragazzi tale stracalcon 6 per oggi è tutto penso di aver sclerato abbastanza vi invito a lasciare un bel like se vi piacciono questi tipi di video e se volete vederne qualcun altro lasciate un commento se volete consigliarmi qualche gioco scleroso da farmi provare eeeh ancora meglio se è flash ragazzi non voglio piratare i giochi quindi non rompete le scatole dicendo mi scarica questo gioco a meno che non è free se è free va bene lo posso anche scaricare posso anche farci un pensierino quindi ragazzi il video termina qui spero che vi sia piaciuto abbiate passato 27 minuti diciamo divertendovi e ridendo alle mie spalle perchè questo è quello che va fatto in questi video e comunque niente ragazzi io sono come sempre TheStrager46 what's the pot e al prossimo video bye bye oh 28 minuti da da ciao 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 ciao